Il termine tedesco Anschluss, letteralmente connessione e collegamento, si riferisce in senso strettamente politico all'annessione dell'Austria alla Germania nazista nel 1938 per formare la Grande Germania. Dopo la sconfitta nella Prima Guerra Mondiale, l'articolo 80 del Trattato di Versailles del 1919 vietò esplicitamente l'inclusione dell'Austria nella Germania. Il stesso divieto fu ribadito nell'articolo 38 del Trattato di Saint-Germain-en-Laye. Secondo il quotidiano francese de Figaro, l'Anschluss fu il fatto più grave e carico di conseguenze dalla fine del primo conflitto mondiale. Per mettere in scacco il potere dei nazisti austriaci che pretendevano l'unione con la Germania nazista, il cancellere austriaco Egenberg Dolfus nel 1933 mise fino al parlamentarismo e instaurò un governo autoritario di rimatrice fascista, ma non nazista, simile a quello di Benito Mussolini, e si orientò verso l'Italia fascista. Nel 1934 il fronte patriottico, di cui Dolfus era il leader, fu dichiarato unico partito legale in Austria. In seguito, il 17 marzo del 1934, l'Austria, l'Italia e l'Ungheria firmarono i protocolli di Roma, secondo i quali l'Italia sarebbe intervenuta militarmente a favore dell'Austria se essa si fosse trovata in pericolo. Il 25 luglio 1934 i nazisti austriaci tentarono di effettuare un colpo di Stato. Il tentativo fallì, ma nell'azione Dolfus e molti suoi sostenitori furono uccisi. Il presidente della Repubblica austriaco, William Miklas, nominò quindi cancelliere Kurt Alois von Schoenig. Von Schoenig, fermamente intenzionato a difendere l'indipendenza dell'Austria, fece condannare a morte tutte le persone coinvolte nel fallito tentativo di colpo di Stato. E dopo aver accusato Dolf Hitler di esservi stato coinvolto, chiese aiuto militare all'Italia, in ottemperanza dei protocolli di Roma. L'Italia mobilitò allora alcune armate e le schierò al confine italo-austriaco, pronte a intervenire in favore dell'Austria se necessario. Dopo la rimilitarizzazione tedesca dell'Arenaria, nel marzo del 1936, von Schoenig cominciò a preoccuparsi per la sempre maggiore invadenza della Germania e scesa a patti con Hitler. L'11 luglio del 1936 fu sottoscritto un trattato fra Germania e Austria, con il quale la prima si impegnava a non interferire negli affari interni della seconda. Ma al trattato erano legate alcune clausole segrete con la quale l'Austria si impegnava a dare l'amnistia agli autori del tentativo di colpo di Stato, nel quale era rimasto ucciso Dolfus, e a inserire nel proprio governo esponenti del partito filonazista austriaco. Impegno che il cancelliere austriaco cercò di differire il più a lungo possibile. Convocato il 21 febbraio 1938 a Bekesgaden, la residenza montana di Hitler in Baviera, von Schoenig fu costretto, appena all'occupazione militare dell'Austria da parte della Germania nazista, a inserire tre filonazisti nel governo austriaco. Edmund Glaes von Osternau come ministro della guerra, Hans Fischbach come ministro delle finanze e Arthur Seyssinkart come ministro degli affari interni. Inoltre doveva essere evocato il divieto di ricostituzione del partito nazista austriaco. Si trattava di un vero e proprio ultimatum e Schoenig firmò le condizioni. La formula fu un perfezionamento del trattato dell'11 luglio del 1936 e Hitler concesse a Schoenig non più di quattro giorni di tempo per l'attuazione delle misure concordate. Costretto dagli eventi e col consenso del presidente Miklas, von Schoenig annunciò la ministria dei rivoltosi nazisti del 1934 e il rimpasto di governo con l'ingresso dei tre ministri indicati da Hitler. Il 20 febbraio successivo Hitler dichiara alla radio che l'Austria sarebbe rimasta un paese libero e indipendente. A tale discorso fecero eco violente manifestazioni dei filo nazisti austriaci in tutto il paese. Von Schoenig si rivolse allora agli operai e ai simpatizzanti del partito socialdemocratico, già soppresso dal suo defunto predecessore. L'appello non rimase inascoltato. Il cancelliere tentò quindi, ai primi di marzo, una carta disperata, in dire a un plebiscito nel quale il popolo austriaco si esprimesse sull'intendimento che l'Austria dovesse rimanere un paese libero e indipendente oppure no, il che fece infuriare Hitler. Il plebiscito che fu annunciato il mercoledì 9 marzo avrebbe dovuto svolgersi la domenica 31 marzo. Schoenig si era anche rivolto a Mussolini, ma questi gli aveva risposto che il plebiscito sarebbe stato un errore e che conveniva attendere ancora. Intanto Hitler era deciso a occupare il paese. Verificato tramite il suo inviato speciale a Roma, il principe Filippo d'Assia, che Mussolini non sarebbe intervenuto a favore dell'Austria in nessun caso, Hitler diede ordine di prepararsi e dar corso all'intervento militare tedesco, già studiato e preparato con l'omencodice Operatioon 8. Le pressioni tedesche sul presidente Miklas e su von Schoenig, effettuate tramite i ministri nazisti von Austernow e Sissinkart, divennero pesanti e i due decisero nel primo pomeriggio del venerdì 11 di revocare il referendum. A questo punto Hitler avanzò ulteriori pretese. Chiese, pena nuovamente l'occupazione dell'Austria, le dimissioni di von Schoenig e la nomina del cancelliere Sissinkart. Von Schoenig si dimise per evitare spargimenti di sangue. Il presidente Miklas si rifiutò fino all'ultimo di nominare il cancelliere Sissinkart, ma alla fine si vide costretto a farlo, in quanto una guerra fra Germania e Austria sarebbe stata disastrosa per quest'ultima. Subito dopo essere stato nominato cancelliere, Sissinkart chiese alla Germania di intervenire militarmente in Austria per porre fine ai disordini nel paese. Venerdì 11 marzo del 1938 l'esercito tedesco invase l'Austria. Per ordine di Sissinkart l'esercito locale non oppose l'esistenza. Lo stesso giorno la Germania proclamò l'annessione dell'Austria alla Germania, Anschluss. L'indomani Sissinkart costrinse Miklas a dimettersi, assumendo in contemporanea anche la carica di presidente della Repubblica. Hitler, per dare una parvenza e legalità a Anschluss, indisse in Germania e fece indire a Sissinkart in Austria un plebiscito per il 10 aprile 1938, con l'in quale il popolo austriaco e il popolo tedesco avrebbero dovuto decidere se accettare o meno l'unione fra Austria e Germania. Nei giorni precedenti al voto, in molte città austriache, fece la loro apparizione numerosi altri funzionali del partito nazista, Hitler stesso, Josef Goebbels, Hermann Göring, Rudolf Hess e altri. E la propaganda si fece sentire in ogni momento della vita quotidiana. Bandiere, striscioni e manifesti con slogan e con la svastica comparvano in tutte le città sui tram, sui muri e sui pali. Soltanto a Vienna furono affissi circa 200.000 ritratti del Führer in luoghi pubblici. Anche sulla corrispondenza comparve l'annulo postale il 10 aprile il tuo sì al Führer. Il sì rimbombò continuamente dalle pagine della stampa e dalle trasmissioni radiofoniche, che erano fermamente in mano nazista. Non furono legittimati al voto circa 200.000 ebrei, circa 177.000 persone di sangue misto e tutti quelli che erano già stati incarcerati per motivi politici o razziali. Ne derivò all'esclusione del voto di circa l'8% dell'intero corpo elettorale. La scheda elettorale stessa fu un caso paradigmatico di aperta violazione dei più basilari concetti di democrazia e legalità del voto. Il quesito referendario, formulato dando del tuo all'elettore e cumulando due quesiti in uno, recitava Se d'accordo con la riunificazione dell'Austria con il Reich tedesco, avvenuto il 13 marzo 1938 e voti per la lista del nostro Führer Adolf Hitler, seguirono infine le due caselle in cui esprime il proprio voto. Il circoletto del sì, perfettamente centrato e di dimensioni maggiori, e il circoletto del no, relegato in un angolo e grande alla metà. Un'eguale sproporzione valeva per le scritte sì e no. La sera del 10 aprile furono resi noti i risultati del plebiscito. Secondo i dati ufficiali in Austria, il sì vinse con il 99,73% dei voti, mentre il no ottene solo lo 0,27%. Il sì vinse in Germania con il 99,08% dei voti, mentre il no con solo lo 0,91%. L'affluenza al voto fu altissima, del 99,71% in Austria e del 99,60% in Germania. A partire da questo momento l'Austria cessò ufficialmente di esistere e fu annessa la Germania, di cui divenne una provincia e prese il nome non ufficiale di Ostmark. Uscita vincitrice della Prima Guerra Mondiale, l'Italia aveva ottenuto la sicurezza della frontiera nord-orientale col trattato di San Germano Le, che definiva il destino dell'impero austro-ungarico. L'annessione del Trentino Alto Adice, fino al passo del Brennero, garantiva la sicurezza della pianura padana, fino ad allora messa in serio pericolo dal cuneo austro-ungarico, che permetteva alle truppe austriache di calare fino alle fortezze del quadrilatero, coperte dal lago di Garda. La chiusura delle porte di casa, obiettivo primario ricercato dall'Italia nella partecipazione alla guerra nelle file dell'intesa, si completava con l'acquisizione della Carniola occidentale con Gorizia, Trieste e Listria, fino alle Alpi Giulie. Il trattato di San Germano Le, all'articolo 88, sanciva il divieto per la nuova Repubblica d'Austria di procedere all'Auslus. L'Italia, in questo frangente, agiva in concreto con la Francia, la quale nel tentativo di naturalizzare il potenziale economico militare tedesco, oltre a richiedere ingenti somme di riparazioni, faceva imporre alla Conferenza di Pace di Parigi nel trattato di Versailles il divieto dell'Auslus alla Germania. In Austria il sentimento popolare era nettamente orientato verso l'unione della nazione tedesca, così come sembravano indicare ragioni di ordine economico, essendo la nuova Repubblica austriaca ridotta una piccola entità di 84.000 km2 e di 6.500.000 abitanti. Il divieto di Auslus, imposto da Francia e Italia, costituivano dei molti controsensi del principio di nazionalità che dominava la sistemazione territoriale voluta dal presidente statunitense Wilson. L'opposizione franco-italiana si manifestò nuovamente nel 1922, allorquando il nuovo cancelliere Ignace Seipel, nell'intento di rendere più vitale l'economia austriaca, si indirizzò verso i giovani europei per ottenere prestiti e impegni finanziari. La Francia, la cui situazione economica in quel momento era la migliore tra le potenze europee, ha consentito tale prestito, ma impose a Seipel di firmare i protocolli di Ginevra, nel settembre del 1922, con i quali si riaffermava la volontà di indipendenza dell'Austria. Anche dopo l'avvento del fascismo nell'ottobre del 1922, la politica estera italiana non si discosta dall'impostazione cui essa si ispira in età liberale. In particolare per quel che concerne l'Austria e la Germania, Benito Mussolini appare come il postreno difensore dell'antirevisionismo, così consigliato dalla macchina diplomatica italiana, rimasta, dopo il 1922, immutato nel suo organico nonostante la svolta fascista. Un'unificazione austro-tedesca avrebbe infatti posto l'Italia di fronte a una situazione pericolosamente simile a quella presente con la duplice alleanza austro-tedesca del 1879. Ne derivarono dei rapporti pessimi con il cancelliere tedesco Gustav Stresemann. Questi, nazionalista moderato, era sì convinto che il risollevamento tedesco dovesse avvenire attraverso metodi democratici, cercando appoggi da Londra e negoziando con Parigi. Tuttavia, uno dei punti fermi della sua politica era riunire in un unico grande stato la nazione tedesca. Nel 1931 la questione dell'Anschluss si ripropose nuovamente, col progetto avanzato dal ministro degli esteri tedesco Julius Kurtius e dal suo collega austriaco Jonathan Schobert. Il 14 marzo 1931 essi conclusero un accordo per assimilazione delle condizioni doganali e politico-commerciali tra i due paesi. Germania e Austria avrebbero mantenuto le rispettive amministrazioni doganali, ma le tariffe e le legislazioni doganali sarebbero state unificate. Era, questo, un tentativo di contrastare l'attuazione del cosiddetto blocco dei paesi agricoli, da parte della piccola intesa a cui era associata anche la Polonia. Presso i francesi e gli italiani, tuttavia, tale progetto non poteva che ricordare che la premessa dell'unificazione tedesca nel 1881 era stata proprio la realizzazione dello Zolverein a partire del 1834. Di conseguenza, la questione venne sottoposta nel maggio al Consiglio di Sicurezza delle Società delle Nazioni. Francia e Italia, il 18 maggio, esposero la loro contrarietà al progetto e decisero di rinviare la questione alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale dell'AIA, che avrebbe dovuto stabilire se fosse contrario ai protocolli di Ginevra del 1922. Nel suo parere consultivo, la Corte si espressa in senso sfavorevole al progetto, con otto voti contro sette. Tra questi ultimi spiccava quello del membro britannico, segno dell'evoluzione di Londra circa il problema tedesco. Sia Julius Curtius che Johann Schober erano stati però obbligati dalle riprecussioni della Grande Depressione, che aveva provocato un riflusso degli investimenti americani e britannici a ritrattare circa le loro intenzioni, al fine di ottenere sostegno finanziario dalla Francia. Apparentemente ancora immune dal contagio della crisi economica. In relazione al fallimento del progetto Curtius Schober, il ministro degli esteri Dino Grandi inviava una lettera di istruzioni a diversi ambasciati italiani in Europa, nella quale stionava come a quel punto il governo italiano si sarebbe dovuto opporre con tutti i mezzi di cui disponeva. È il segnale di un più attivo ruolo italiano nella difesa dell'indipendenza dell'Austria, determinato anche dalla pericolosa ascesa del partito nazionalsocialista tedesco dei lavoratori in Germania, a cui avrebbe seguito un'analoga tendenza in Austria. Per far fronte a questo pericolo, Mussolini avviò contatti più intensi col principe Ernst Rudinger-Worst-Reinberg, capo dell'Enveren, e con il cancelliero austriaco Engenberg-Dolphus. L'obiettivo di Mussolini era inserire l'Austria all'interno del rapporto privilegiato che l'Italia possedeva con l'Ungheria, già da parecchi anni, che si erano ulteriormente rafforzati con la conclusione degli accorti di Semmering nel 1931 e col progetto di un'unione doganale Italo-Austro-Magera nel 1932 durante la visita in Italia del generale Willa Gombos, primo ministro ungherese. Perciò i segnali del Drang Natsch-Saudosten tedesco minacciavano la situazione privilegiata di cui l'Italia all'epoca godeva nell'area Danubio-Balcanica. L'eventuale perte del mercato austriaco avrebbe causato la fine del progetto di un'unione doganale Italo-Austro-Magera e la decadenza dei successi politici italiani in quell'area in funzione antitedesca. La contemporanea attività commerciale e politica tedesca nei confronti dell'Ungheria, culminata con la stipula nel giugno del 1933 di un trattato di amicizia e di commercio, veniva contrastata con i continui negoziati da parte italiana degli Accordi Brocchi, progetto di costituzione di una unione doganale che risaliva agli anni 30 e che, come detto, era stata proposta dal generale Guglia Gombos nel 1932. Ricapitolando, oltre all'appoggio al revisionismo ungherese, l'Italia finanziava abbondantemente l'Enveren di Ernst Rodinger von Strayenberg e appoggiava politicamente il governo Dolfus. Nell'incontri del 14-17 marzo 1934, il progetto italiano di un'unione doganale arrivava a coronamento con la firma dei protocolli di Roma del 1934, con i quali l'Ungheria e l'Austria si legavano all'influenza economica e politica italiana. Nel periodo precedente alla conclusione di tal accordo, Mussolini era riuscito a convincere Hegenberg Dolfus ad accettare l'idea di smaltellare lo Stato democratico e a costituire una dittatura di stampo cattolico che mettesse al bando tutti i partiti, compreso quello nazista, e che ponesse alla guida del paese il fronte patriottico. Quando Hitler aggiunse al potere, non trovò in Austria una situazione democratica come in Germania, ma una dittatura che non consentì la propaganda del nazismo. Sulla questione austriaca si registravano i più grandi attriti tra Germania e Italia. Tuttavia, il ruolo di garantire l'indipendenza austriaca svolto dall'Italia e sistema politico ivi costruito non erano esenti da problemi di applicazione. L'opinione pubblica non vedeva di buon occhio un eventuale intervento armato italiano, pur in difesa dell'indipendenza nazionale. Simili dubbi venivano espressi anche da Francia, Gran Bretagna e dalle potenze della piccola intesa. Del resto, Adolf Hitler aveva fatto ripetutamente presente a Mussolini tramite i suoi inviati Hermann Göring e Franz von Papen durante tutto il 1933 della necessità che Dolfus venisse rimosso per consentire la libertà politica in Austria. Tale tesi venne ripetuta dallo stesso Hitler durante l'incontro di Stresa del 14-15 giugno 1934 nel corso del quale il Führer chiese ripetutamente la possibilità di tenere libere elezioni in Austria, certo di una sicura vittoria dei nazisti locali. Benito Mussolini si limitò a prendere atto delle richieste di Hitler il che equivaleva a un rifiuto. Conscio in tal modo la propaganda nazista avrebbe fatto breccia presso l'opinione pubblica spianando la strada all'Anschluss e mettendo a rischio la frontiera del passo del Brennero. Nel luglio dello stesso anno ebbe luogo il tentativo di push di Vienna. La congiura fallì anche per il minaccioso intervento di Mussolini che era il protettore di Dolfus essendo l'Austria legata all'Italia da numerosi vincoli tra i quali i protocolli di Roma siglati il 17 marzo 1934 fra Italia Austria e Ungheria. L'obiettivo politico di Hitler era stato tuttavia conseguito con l'eliminazione del cancelliere Dolfus morto durante l'assalto dalla cancelleria. Il push di Vienna veniva in contemporanea con il negoziato di italo-francese per un'alleanza in funzione anti-hitleriana all'interno di un grande progetto di contenimento tedesco franco-russo ispirato dal ministro degli esteri francese Louis Barthoud. Mussolini si era reso conto alla luce del fallito colpo di Stato che era necessario ripensare alla strategia antitedesca e si era risolto ad avvicinarsi con molto realismo alla Francia. Questo riavvicinamento condusse alla conclusione degli accordi di Roma del 7 gennaio 1935 conclusi da Mussolini e Pierre Leval succeduto a Louis Barthoud dopo il suo assassino a Marsiglia probabilmente agevolato dai tedeschi. In tali accordi i due stati si misero d'accordo tra le altre cose nel garantire l'indipendenza austriaca. Il riavvicinamento alla Francia sarebbe continuato con l'inizio di trattative per un'alleanza militare attraverso i colloqui di Pietro Badoglio e Maurice Gamle. Il fronte antitedesco si andava rinforzando ma con la sopravvenuta crisi d'Etiopia e la conseguente guerra esso si sfaldò successivamente al fallimento del compromesso Patto Hor-Laval probabilmente facilitato dai sentimenti anti-italiani di Alessier Dessier segretario generale del Cue d'Orsay egli infatti rendendo pubblico il testo dell'accordo rese impossibile il recupero da parte di Francia e Gran Bretagna dell'Italia all'interno del fronte di Stresa. Stesso effetto sortì la conclusione dell'accordo navale anglo-tedesco il 18 giugno 1935 visto come un tradimento britannico nei confronti dell'Italia L'atteggiamento italiano nei confronti dell'Anschluss mutò all'inizio del 1936 il colloquio del 6 gennaio 1936 tra Mussolini e l'ambasciatore tedesco Ulrich von Hassell pose le basi per riavvicinamento italo-tedesco dopo il raffreddamento dei rapporti successivamente al Puschel del 1934 in esso il Duce apria nuove soluzioni per l'Austria considerando il fronte di Stresa ormai morto e sepolto l'Italia comunicò all'ambasciatore tedesco che si sarebbe posto fine alla protezione austriaca e che si sarebbe accettata la graduale assimilazione dell'Austria alla Germania il disinteresse crescente italiano per l'Austria portò alla conclusione dell'accordo austro-tedesco dell'11 luglio 1936 con il quale si rientroduceva la possibilità di consentire la propaganda nazista nel paese nonostante questa evoluzione e riavvicinamento italo-tedesco Hitler non era ancora sicuro del comportamento italiano in caso di azione in Austria il cancelliere austriaco Kurt Alois von Schunig di canto suo era intenzionato a resistere all'invadenza tedesca ma non aveva più l'appoggio dell'Enveren di Ernst Rudigen Streinberg scaricato dall'Italia e venne consigliato agli italiani di immettere al governo esponenti nazisti cosa che avvenne nel maggio 1936 dichiarando che da allora in poi avrebbe aderito la formula di Gnaz Seipel due stati una nazione a completamento del ravvicinamento italo-tedesco avvenne un cambio dalla guida del ministro degli esteri con la nomina di Galleazzo Ciano il 6 giugno 1936 e l'allontanamento di Fulvio Suvic dal ministero da sempre contrario alla linea filo-tedesca in occasione della firma italiana del patto anticomiter del 6 novembre 1937 Benito Mussolini ebbe un colloco con Joachim von Ribbentrop durante il quale il duce dichiarò di non aver più intenzione di fare la sentinella dell'indipendenza austriaca in tal modo la Germania dopo l'assenso britannico ottenuto con l'accordo navale anglo-tedesco del 18 giugno 1935 otteneva anche l'assenso italiano nel marzo 1938 Adolf Hitler poteva procedere all'Anschluss e la visita di Hitler in Italia con l'amaro ritirarsi del Papa Castengandolfo sanciva l'alleanza fascista col nazismo l'occupazione tedesca dell'Austria che Montini definì le penose vicende di questi giorni faceva crollare il sogno del blocco dei paesi cattolici nella politica estera vaticana molti di questi giorni l'asso e la visita di Hitler la visita di Hitler qui la visita di Hitler l'anaro l'anaro Grazie.